Circa 300 partecipanti tra architetti, geometri ed ingegneri hanno partecipato al congresso Il futuro dell'edilizia, progettare e riqualificare l'edificio in pianto in chiave sostenibile. Il convegno ha avuto luogo giovedì 2 marzo 2017 a Padova ed è un convegno del ciclo infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Molti interventi scientifici e molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Abbiamo presentato il trattamento antigraffio, un trattamento che è stato studiato apposta per ambiti pubblici e residenziali dove magari l'atto vandalico è più frequente, un sistema che rende la superficie dei pannelli di policarbonato più resistente ai graffi e più resistente anche ai solventi che normalmente si utilizzano per la rimozione di vernici spray e quant'altro. Quindi un trattamento ulteriore per andare a soddisfare sempre di più le esigenze del progettista. Questi conveni ci danno la possibilità di mostrare le potenzialità di questi sistemi che molto spesso si sono conosciuti dal progettista ma che non ne conosce appieno le potenzialità e quindi vedendo le nostre realizzazioni riesce a capire le superfici e soprattutto il tipo di realizzazione che si possono ottenere utilizzando correttamente con la consuenza del nostro ufficio tecnico queste tipologie di sistemi.